Sì, sì, no, 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 quello no, no, Yad, no, non è proprio così, Yad, dunque Yad è uno che è uno che cerca la felicità anche nella catastrofe, ecco, quando le cose saltano in aria lui ci sta, ci sta dentro la grande, ecco un uomo che vive la grande, si può dire così, potrebbe andare a fondo il Titanic e lui avere in mano il bicchiere di cognac, in questo caso di Iraq, perché lui beve la racca dalla mattina alla sera e aspettare di andare a fondo col cognac in mano, certo lo fa perché è ebro, continuamente ebro, quindi come tutti gli alcolisti sono ebri, sono ebri di vita ma anche di alcol, quindi quando si è ebri di alcol si vede il mondo in un modo particolare, perché quando io bevo la mattina e desco di casa, vedo il mondo differente dalla mattina in cui non bevo e desco di casa, this is the end, my only friend, diceva una canzone, probabilmente anche Yad ama molto questa canzone dei Torso, this is the end, my only friend, my end, the end, my friend, cioè questo legame anche con la morte, l'amicizia della morte, è uno che si approssima alla morte, no? Si avvicina come un atto liberatorio, in fondo ammazzare il figlio, il figlio, ammazzare il figlio, è una cosa che per Yad è come abbassare una carta poker, cioè, ma non nel senso che non gli prova, non lo attraversa dentro, non lo sconvolge dentro, è un atto certo devastante, però, in questo senso, ammazzare il figlio per Yad è, ecco, Yad non finisce mai, cioè non porta mai a termine, in fondo, le sue battute non si esauriscono in quello che dice, Yad non è, è soddisfatta? No, non posso fare altrimenti, è la guerra. Io riparo i vivi, Alia, la levatrice, i morti non sono il mio campo. in questa devastazione preservo la vita, ingoiando tutto quello che potrebbe portarmi fuori dalle energie che mi servono per preservare questa vita che devo mantenere. Preservo anche mio marito, Yad, sei carente di magnesio, lecca lo yogurt, Yad. Preservo la dignità di mio marito difendendolo, è giusto che mio marito vada con le donne perché si è occupato di loro, della loro vita e quindi si può occupare della loro vita in tutti gli aspetti che le appartengono. Però la dignità, la mia dignità la voglio, voglio delle calze senza buchi in questa guerra. Voglio avere la dignità di guardare in faccia mio marito con lo stesso rispetto con il quale, con la stessa energia, con la stessa forza con il quale guardo anche i soldati. Che sfotto. Mio padre, che un tempo combatteva, parla di letteratura. Mia madre non parla. Il man parla troppo. Fuma. Non mi piace. Io non le capisco le donne. Non capisco... mi danno anche un po' fastidio. Parlano. Hanno delle preoccupazioni inutili. Non sono mai stato con una donna. vado all'università. Sì. Non so perché. Lo vogliono i miei genitori. Se fosse per me io non sarei qua. Sarei da qualche altra parte. Sarei con altri ragazzi a fare qualcosa. A smetterla di osservare il cielo e basta. Sarei con le mani pronte. Sai, io non ho vissuto la guerra, quella forte, quella lì, io non l'ho vissuta. Io ho subito gli effetti della guerra però. ero troppo piccolo. Forse sono ancora piccolo. Non so. Io se avrò un bambino... Se avrò un bambino, se avrò un figlio... Non ci credo. Vabbè. Io se avrò un figlio sicuro, sicuro lo mando in Francia subito. Non rimani qui mio figlio. No, 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 no. Non rimani qui. Se avessi un bambino. Ma non credo. E poi c'è... E poi c'è il signor Yad. Il signor Yad... È buffo il signor Yad. Un sacco buffo. E poi parla tanto. E poi è colto, è colto. Mi piace perché è colto. Dovrebbe insegnarmi un sacco di cose, ma... Ma Alia non vuole. Non so perché. Però ogni tanto ci facciamo tante di quelle risate. E... E mi parla un sacco di mamma. Era molto simpatica, mamma. Sì. Molto. Vuoi saperne ancora? Doppia linea, doppio punto. Da capo. Doppia linea, doppio punto. Da capo. È armonico. C'è anche una... Un'armonia nella ripetizione. Ma quando... 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 Quando l'orchestra ripete... C'è un uomo dietro lo strumento. C'è un uomo dietro lo strumento. E come fai a sapere se quella ripetizione... È armonica. Se quella ripetizione... È in linea. Ma non è automatismo, è volontà. E questo è il punto. Non è automatismo, è volontà. Non è un uomo dietro, ma non è stata breathata. Grazie a tutti.